Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in Villa Peripato, sono in compagnia dell'agronomo il dottor Francesco Pasculli. Questa area splendida vicino al laghetto presenta una mostruosità. Vedete un albero, un bel pino, completamente contornato di asfalto. Vedete voi un po' se è possibile una cosa del genere, non c'è un minimo, non c'è una traccia di terra, è stato completamente soffocato, avviluppato, strozzato dall'asfalto. Ma è possibile una cosa del genere? Mi domando, Assessore Lonuce, Assessore ai lavori pubblici, ma questi scienziati che hanno fatto questo lavoro, innanzitutto gli operai scienziati, devo dire deficienti, chi ha fatto una cosa del genere è un deficiente, con tutto il rispetto per chi purtroppo ha deficit cognitivi mentali. Ma ancora più grave è il fatto che quando sono stati realizzati i lavori, il controllo del settore lavori pubblici o di altro settore dell'amministrazione comunale preposto, dove è finito? Non si è fatto un controllo dello schifo che è stato fatto. E allora, dottor Pasculli, le conseguenze suppongo letali per le piante, per gli alberi? Sì, già l'asfalto determina sicuramente una problematica perché non consente alle radici di poter fisiologicamente espletare la massia potenziata fisiologica, quindi l'albero va incontro a una sfissia radicale e quindi alla morte. Per le alberature di alto fosso, come in questo caso i pini, la cella, così chiamata tecnicamente, dovrebbe essere almeno 2 metri per 2 metri, quindi 4 metri quadrati, per consentire quindi all'albero di poter crescere bene. Quindi questo cosa determina? Potrà determinare nel tempo il graduale deperimento dell'albero e quindi chiaramente un pericolo per la pubblica incolumità, perché quest'albero chiaramente si può schiantare determinando anche delle conseguenze piuttosto gravi. Assessore Lonuce, lei sappiamo che vuole candidarsi sindaco, ma se da vicesindaco e da assessore ai lavori pubblici non si rende conto di questo scempio, ma averla come sindaco non so quali benefici ci sarebbero per la città. Signori, questo è Taranto, questo è lo scempio, Lucio Lonuce, rispondi.